Non ho mai truffato un italiano, mai! Sempre stranieri, modestamente. Basta fare il caffè. Ma sempre ladro sei? Ladra. Beh, parla bene. Parla bene perché alla fine del mese c'è il suo bravo stipendio. Lasciamo stare qui. Non la pagano, eh? Come non mi pagano? Beh, danno poco. Insomma, sono a fare i miei, vuoi dire... Caro commentatore... Ma come commentatore? Non è commentatore, me. Ma perché dovrei essere commentatore? Oh, per favore, non l'hanno fatto commentatore. Ma perché dovrei essere commentatore? Un uomo così grosso... E perché i commentatori vanno a peso?